...primato italiano, ecco adesso mi pare che sia importante seguire la prova di Sara, che vediamo magrissima peraltro, ha in forma perfetta, perfetta, efficienza fisica completa, al di là dei problemi, eccola, eppure c'era, però per un nulla direi, è il primo errore di Sara Simeone, primo errore ma ritengo che possa assolutamente fare la misura, 1.97 primo tentativo di Ullarri che mai fa, è stata sfortunata ma comunque l'articella è caduta, la Gettara ha avuta la stessa sorte per cui non, quindi stanno sempre in parità, in parità, perfetta parità. Bene, 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 1.97 secondo tentativo e qui cominciamo a farci un pensierino, a una medaglia, cominciamo a farci un pensierino. Bene, Sara Simeone ha superato i 2 metri, 2 metri, ha superato i 2 metri, Sara Simeone al primo tentativo i 2 metri, al primo tentativo i 2 metri. Ah, ecco, la Malfart ha superato 2-0-2, 2-0-2 si è portata in testa alla gradatoria, bisogna infinarsi di brutta questa grandissima atleta, allo sconto di due grandissimi, di un grandissimi atleta, nulla da dire, c'è certo, 2-0-2 primato olimpico, due grandissimi atleta, ma potrebbe, potrebbe stare anche, comunque stare ancora due tentative a disposizione. ed ecco Sara Simeone che si apprezza a fare appello a tutte le sue risorse per cercare di rimanere in gara, e comunque già a medaglia d'argento ha ancora questa chance a disposizione. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti.